Diamo la parola al professor Bonapace, il quale ha studiato gli effetti sul DNA che poi producono quegli effetti di cui abbiamo visto nelle precedenti relazioni. Sì, buongiorno e ringrazio ovviamente dell'invito. Mi chiamo innanzitutto Marco Bonapace e sono un docente di oncologia molecolare all'Università dell'Insubria. Ho portato una presentazione che è essenzialmente di tipo, in inglese si direbbe di review, cioè per poter avere un quadro un po' d'insieme e qualche piccolo dato introduttivo preliminare che abbiamo realizzato in collaborazione con Fiorenzo Marinelli. In particolare quello che vorrei cercare di discutere con voi questa mattina è la problematica genetica ed epigenetica che si instaura nel momento in cui un organismo delle cellule vengono in contatto con un campo magnetico. Una piccola premessa che mi sono dimenticato, parlo in italiano ma le diapositive le ho scritte in inglese anche perché le persone che non parlano in italiano possano seguire. Dunque c'è un'evidenza ormai abbastanza consolidata che indica che persone esposte a campi elettromagnetici superiori a 0,3 microtesla possono andare incontro a leucemia. Ora, il dato che più colpisce è che se guardiamo questo grafico... Non c'è un pointer, un indicatore? Allora, se noi appunto guardiamo in questa curva, se guardiamo la curva così come è, si vede, vedete, questa è l'incidenza dei tumori a seconda dell'età. Vedete che c'è una strana situazione all'inizio, cioè praticamente subito dopo la nascita, fino ad un'età diciamo di 5-10 anni al massimo, c'è un andamento della curva che è completamente diversa da quella che ci si attenderebbe. E questo ha fatto pensare che appunto l'incidenza dei tumori infantili e appunto tra l'età di post-nato e fino a circa 5-10 anni fosse anomala. E di questo ormai, questo è un dato ormai consolidato nella statistica, diciamo così, dell'incidenza dei tumori. Tra queste patologie di tipo tumorale in quell'età la fa da padrona la leucemia. E eventi causali della leucemia ormai sono consolidate, sono le radiazioni ionizzanti e tante sostanze chimiche che nell'ambiente sono presenti. Ovviamente la domanda è se anche i campi elettromagnetici sono in grado di produrre questo tipo di patologia e ovviamente ci sono molti studi che confermano questa idea. E tra l'altro le leucemie maggiormente presenti, la leucemia linfoblastica acuta è quella che colpisce maggiormente la popolazione. Giusto velocemente, anche qui per capire che cosa intendiamo per leucemia, vedete, ogni giorno noi dobbiamo cambiare, insomma, nell'arco di poche settimane, noi dobbiamo cambiare praticamente l'intero patrimonio delle cellule del nostro sangue, mettiamola così in maniera semplice. E tutto parte da una cellula soltanto che è in grado di dividersi asimmetricamente e produrre, come vedete, tutti i tipi cellulari che sono presenti nel nostro sangue. Quindi per partire da questa cellula e giungere, per esempio, a questa, vedete, ci sono un sacco di tappe che devono essere fatte e compiute affinché questa cellula iniziale possa diventare questa, non questa, non questa e così via. Questi processi si definiscono processi differenziativi e una leucemia si instaura quando una cellula, per esempio questa, non è più in grado di procedere nella generazione delle successive. E questo vale per qualunque tipo cellulare. Quindi la leucemia è la formazione di una cellula che è in grado, cioè l'accumulo di cellule che non sono più in grado di procedere oltre e quindi si accumulano e replicano in maniera fortemente patologica. Vi risparmio questa. La ragione fondamentale per cui questo avviene è perché, in particolare nelle leucemie, oggi si dice anche che i tumori solidi probabilmente seguono lo stesso percorso, vi sono molti riarrangiamenti cromosomici, cioè i cromosomi si spezzano e si ricompongono in maniera anomala. E questo dipende, questo definisce, diciamo così, e probabilmente causato appunto da un concetto più generale che è il concetto chiave che io vorrei far passare oggi in questa mia presentazione, cioè l'instabilità genomica. L'instabilità genomica è quel meccanismo che produce una alterazione vera e propria della stabilità del materiale genetico, stabilità in senso di sequenza e di mantenimento dell'integrità del genoma, tale per cui processi appunto di frammentazione e ricomposizione del genoma anomalo provocano diversi processi, o una mutazione nel gene, o aberrazioni cromosomiche, oppure addirittura un'incapacità di andare incontro alla duplicazione cellulare producendo forme veramente anomale di cellule, o addirittura cellule con nuclei estremamente alterati. Nella stragrande maggioranza dei casi, come Eleonora precedentemente ha illustrato, le cellule vanno incontro a morte, perché queste anomalie inducono la cellula alla morte cellulare programmata chiamata apoptosi. Ma tutte, proprio il 100%, ecco il problema è proprio lì, non è così, non il 100%, quindi la maggior parte di queste cellule, cioè scusate, un certo numero di queste cellule può rimanere viva, può rimanere viva e nel tempo, ci vuole molto, molto tempo, decine di anni in alcuni casi e molto meno in altri, queste cellule che sono sopravvissute, che sono state capaci di resistere a quel processo di apoptosi, cioè di morte cellulare programmata, prendono il sopravvento, esattamente quello che ha fatto vedere prima Eleonora nella sua presentazione. Certo, quelle erano cellule già tumorali, ma il concetto è esattamente lo stesso. Quindi il punto. Quindi il problema è che la instabilità genomica dipende dal fatto che noi siamo investiti quotidianamente da tutta una serie di eventi endogeni della cellula, quindi fisiologici, ma anche esogeni, che inducono appunto il danno al materiale genetico, danno al DNA, e vedremo non solo. Questo DNA può essere riparato, il danno al DNA può essere riparato, e allora siamo tranquilli che la cellula potrà tornare a sopravvivere normalmente, ma se non viene riparato, può andare incontro, appunto, come dicevamo, ad apoptosi, ma può essere, andare incontro a mutazioni, e come dicevamo, se queste mutazioni impediscono alla cellula di andare incontro ad apoptosi, morire e quindi essere eliminate, nel tempo possono essere la causa di tumori e di tante altre malattie genetiche. Giusto per capirci, normalmente ogni giorno noi dobbiamo affrontare la cellula, normalmente, spontaneamente, ma non per cause esterne, per cause indogene, deve affrontare circa 10.000 lesioni provocate dalla biologia naturale della cellula, più altre circa 10.000 lesioni provocate da altri tipi di processi che non vorrei qui sottolineare. L'insieme di queste cose, e qua un altro punto chiave della questione, l'insieme di tutti questi danni devono essere riparati e l'evoluzione ha fatto sì che il nostro sistema biologico adesso è tarato, capite? Cioè tarato per rispondere a questo livello di danno, cioè il livello di danno è endogeno. Da diversi decenni noi stiamo somministrando un livello di danno che è molto maggiore, perché appunto gli insulti ambientali adesso stanno aumentando il livello di danno che la cellula subisce e dunque il DNA subisce. Quindi l'instabilità genomica aumenta notevolmente. Quindi che cosa succede? Il sistema biologico che era evoluto, si è evoluto per riparare quel livello di danno che abbiamo citato, oggi non riesce a farlo e quindi si accumula una certa dose di danno al DNA che non può essere riparato. Quindi aumenta la frequenza di mutazione, ovviamente l'instabilità genomica e quindi la produzione di danni. Dunque, molti studi sono stati fatti con appunto individui umani e studi su cellule esposti a radiofrequenze e quello che si è osservato, non entrerò nel dettaglio perché sarebbe soltanto una lunga lista della spesa, ma diciamo in stringendo che cellule esposte a diversi campi magnetici di intensità variabile, come vedete ne ho citate alcuni, possono essere effettivamente queste cellule possono andare incontro a danno al DNA maggiore di quello diciamo così naturale del rumore di fondo diciamo così del danno al DNA a tal punto che il danno può essere tale da generare instabilità genomica. Quindi in un diciamo flusso di informazione ideale che cosa succede dunque ricapitolando siamo colpiti c'è una modificazione a livello delle molecole questo produce danno al DNA che se riparato può portare le cellule di nuovo a mantenersi normali altrimenti il flusso fa sì che in presenza di un microambiente cellulare che cerca di aiutare la cellula a recuperare ma se questo non riesce ad ottenere raggiungersi si ottiene una cellula mutante che può o provocare appunto effetti genetici ereditabili o addirittura il cancro ancora di più però come funziona cioè quali sono i meccanismi per i quali il danno si induce quando si è sottoposti ad una radiazione elettromagnetica l'energia non sembra essere sufficiente per poter agire direttamente per cui sono state fatte molte ipotesi tramite le quali l'evento del danno al DNA può essere indiretto e quale sarebbe la causa principale dell'evento indiretto sarebbe la produzione come era già stato sottolineato precedentemente delle specie reattive dell'ossigeno le specie reattive dell'ossigeno sono assolutamente normali sono produzioni normali della cellula perché all'interno dei mitocondri questa è una cellula questo è un mitocondo questo è il nostro nucleo vengono prodotte queste sostanze che sono dei sottoprodotti particolarmente dannosi particolarmente dannosi del normale metabolismo ora le radiazioni elettromagnetiche possono aumentare questa produzione per i meccanismi già sottolineati in precedenza in rosso cioè le specie reattive dell'ossigeno hanno particolare efficacia direttamente sul DNA sulle proteine e sulle membrane lipidiche ma tutti questi eventi sono benché veri benché documentati probabilmente non riescono a spiegare l'intero processo quindi bisogna introdurre un altro argomento che è collegato direttamente alla genetica che si chiama appunto che viene prendendo il nome di epigenetica cioè sono tutti quei processi che determinano che sono ereditabili ma non determinano variazione della sequenza del nostro patrimonio genetico cioè del DNA ma che sono altrettanto importanti per la stabilità genomica per il controllo delle espressioni dei geni e per tutti quei processi che abbiamo già citato proliferazione differenziamento apoptosi ovvero sia proviamo a immaginare l'hard disk del computer è il genoma quindi è dove sono scritte tutte le informazioni ma noi senza un sistema di lettura e interpretazione del nostro hard disk non sapremmo come far funzionare il computer dunque serve il software allora messa in maniera molto semplice l'epigenetica è il software del del genoma quindi il genoma è l'informazione l'epigenetica è il modo in cui questa informazione è regolata quindi si dice alla cellula fai questo fai quell'altro e a seconda appunto dell'epigenetica quindi che cos'è l'epigenetica è un sistema di criptografia cioè un modo per indicare sul DNA che cosa va espresso e che cosa invece non deve essere espresso molto velocemente il DNA vedete è compattato nel nucleo ed è compattato vedete in questo modo molto fittamente o meno fittamente e il giallo è il DNA il giallo è il DNA questi pallini grigi sono invece le molecole proteiche che si chiamano nucleosomi che si chiamano insomma i stoni complessivamente nucleosomi che servono a compattare il DNA il DNA non compattato cioè aperto è un DNA attivo il DNA che invece è fortemente compattato è un DNA silente quindi l'effetto più importante da un punto di vista epigenetico è quello di permettere in maniera diciamo articolata la apertura o la chiusura della cromatina per dire gene esprimiti gene non esprimiti è come quando noi diciamo al programma aprimi quel file chiudimi quel file il concetto è più o meno lo stesso quindi è un modo per regolare il DNA finché possa essere espresso quindi la ragione per cui le cellule del fegato non fanno le stesse cose che fanno le cellule del cervello è perché nel fegato le cellule a cui geni del cervello sono repressi e nel cervello sono repressi i geni del fegato in modo tale che si possa regolare l'espressione quindi se si interviene sui meccanismi di questa regolazione è chiaro che le cellule cominciano a non fare più quello che dovrebbero per capirci queste modificazioni vedete possono essere indotte sulla vedete su quei dadi che abbiamo visto precedentemente oppure possono essere indotti direttamente sul DNA vedete queste modificazioni che si chiamano metilazioni del DNA vedete possono essere indotti da determinati enzimi oppure ancora una volta vedete su quelle palline che abbiamo visto prima sugli stoni possono essere indotte delle modificazioni e queste doppie modificazioni cioè metilazione del DNA modificazioni stoniche sono proprio il software che serve a dire gene attivati gene non attivati quindi gli insulti epigenetici scusate gli insulti ambientali possono vedete incidere a diversi livelli sulla metilazione del DNA sugli stoni come abbiamo detto e su tutta un'altra serie di funzioni che appunto la cui alterazione può provocare questo in che modo appunto un campo magnetico può colpire l'effetto può colpire a livello epigenetico come è stato appunto brillantemente detto poco fa per esempio può colpire direttamente scusate può colpire direttamente il DNA producendo un danno diretto ma dicevamo che è meno probabile ma potrebbe colpire gli enzimi che sono in grado di regolare quel processo quindi facendo perdere vedete facendo perdere lo stato di metilazione del DNA piuttosto che lo stato vedete di piuttosto che lo stato di modificazione degli stoni quindi giusto per arrivare al dunque degli esperimenti che abbiamo fatto il problema è che nel nostro genoma in maniera drammatica circa il 40% del nostro genoma è composto da una serie di sequenze quindi una quantità molto importante del nostro genoma che sono in grado di provocare mutazioni quindi questi geni che sono in grado di provocare mutazioni sono una reliquia dell'evoluzione cioè sono lì e devono essere tenuti confinati come si fa a confinarli epigeneticamente cioè quei geni che si chiamano appunto retrotransposoni sono repressi in maniera molto molto efficace grazie a meccanismi epigenetici quelli che abbiamo visto prima cioè questi geni sono altamente metilati in modo che non possano essere espressi quello che abbiamo fatto insieme con il nostro cioè prima di arrivare a quello velocemente giusto per farvi capire queste sono persone esposte questi sono dati veri cioè sono praticamente dei vigili da una parte e dei benzinai dall'altra rispetto a dei controlli in cui si vede che la metilazione il livello di metilazione di queste regioni così pericolose vedete è sceso nel giro di pochi anni un paio d'anni di un valore percentuale statisticamente significativo quindi qual è il risultato che se queste sequenze sono attivate sono attivate creano ancora più mutagenicità ancora più instabilità cromosomica e genomica e questo si manifesta per esempio vedete in questa analisi le persone che hanno queste sequenze attivate nel tumore del colon sono quelle che hanno una prognosi peggiore quindi avere queste sequenze attive quindi demetilate epigeneticamente attive significa avere molto più danno quindi con il collega Marinelli abbiamo provato a verificare se il campo elettromagnetico del radar qua di potenza picena fosse in grado di riattivare queste sequenze appunto così pericolose questi retrotransposoni il dettaglio di questa esposizione io non ve lo presento perché a pochissimo tempo anzi meno di un minuto ormai e poi ne parlerà tra poco il collega stesso questi sono i dati dell'esposizione vediamo subito al dato come vedete entro 48 ore dall'esposizione l'intero 24 ore scusate dall'esposizione vi è già un aumento significativo anche se tutto da verificare con più esperimenti evidentemente e a 48 ore è ancora più 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 ampio questo che cosa vuol dire in conclusione tornando un attimino al concetto espresso inizialmente e cioè che il fatto che esista una il fatto che esista danno al DNA spontaneo e endogeno della cellula il fatto che il campo elettromagnetico sia in grado di aumentare la probabilità di danno attraverso meccanismi epigenetici aumenta amplifica rischia di amplificare l'effetto di danno al DNA perché queste sequenze retrotransposoniche attive sono in grado di determinare ulteriore danno al DNA con un meccanismo che si chiama mutagenesi inserzionale quindi questo danno che si cumula come dicevamo prima provoca appunto tumore e altre patologie vi ringrazio e spero di essere stato nei tempi grazie a tutti grazie a tutti